E' una ragazza molto molto timida che si vergogna Ma la vuole smettere, la vuole smettere Sto facendo un documentario Fate qualcosa, mangiate una banana Sto girando un documentario su una specie rara di babbuini Ed è raro, è rarissimo averli trovati qui Dobbiamo fare estremamente silenzio, silenzio totale E' una specie solitaria, pericolosa Dobbiamo fare silenzio e non disturbare la specie In via di estinzione E' una razza un po' aggressiva questa Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!